Musica Arriverà ad Arezzo sabato 18 marzo il generale Mario Mori per presentare il suo nuovo libro Oltre il terrorismo, soluzioni alla minaccia del secolo. Un saggio sull'analisi dei meccanismi all'origine della minaccia terroristica in Europa e in Medio Oriente. Mori sarà protagonista del nuovo appuntamento del ciclo di eventi organizzati dall'Associazione Cultura Nazionale. Un altro grande evento di cultura nazionale, non ci fermiamo mai, viene il generale Mario Mori, ex capo del SISDE, vari riconoscimenti tra le più alte non-reficenze dell'esercito e dell'arma dei carabinieri, un grande personaggio, viene a spiegarci il suo libro, viene a illustrarci il suo libro Oltre il terrorismo, la piaga del nostro secolo, i modi per combatterla, le politiche dei vari governi, insomma un altro grande libro che viene presentato a Arezzo, un grande personaggio che ci dirà anche come intende lui la lotta al terrorismo, quindi invitiamo tutti alla Feltrinelli sabato 18 alle ore 18 per un altro grande evento di cultura nazionale.